Tutto quello che c'è per organizzare la serata. Pensiamo a saluto, è una cosa importante. Gigi Pissarmo e Gerdano Lago, come vedete Pissarmo, 1928. Pensiamo a saluto. Questa reazione è una di quelle che dicevo prima, che metta nel piccolo il rapporto precedente. Trovai il motivo per sparparmi nella compagna, cosa che non succede alla canzone classica. Invece succede in questo tipo di canzoni che non vieni a lasciare a fare canzoni. Sono canzoni popolari, tipo di loro, però canzoni in altre cose nella storia. Pensiamo a saluto. Pensiamo a saluto. Pensiamo a saluto. Pensiamo a saluto. Sa a disposizione è molto riuscita. Pensiamo a saluto. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info